Sciclub Senigallia sulla Danter Cepis, domenica 24 gennaio 2010, guida il gruppo Massimo Badiali, l'idea è quella di fare un serpentone sulla pista tutta libera, benissimo vedo azzurro, benissimo, gruppo Gabriele Gemignani, perfetto, perfetto, continuare, continuare, perfetto, prendiamo anche da di dietro, benissimo, Sciclub Senigallia, il nostro capo animatore Luca Leone, un po' stanco dopo gli stravizi di ieri sera sugli slittini in rifugio, Sciclub Senigallia, Gabriele Gemignani è tutto!